Che importanza ha sapere la data esatta della fine del mondo? Se Gesù non l'ha rivelata c'è un motivo. In pratica tutti noi dobbiamo sempre essere pronti, perché non sappiamo nel giorno né l'ora. Quando noi cominciamo ad indagare in profondità nella nostra mente, finisce un mondo e ne inizia un altro, perché cambia la visione del mondo ad ogni esperienza che facciamo. La nostra conversione personale è una fine del vecchio mondo di illusioni. Il ritrovarci nell'altra dimensione in modo definitivo è la conseguenza di tutti gli stadi evolutivi precedenti, sia psichici che spirituali. Non bisogna preoccuparsi per la fine del mondo, ma per la permanenza del nostro vecchio modo di pensare, per la nostra fossilizzazione nei luoghi comuni, per la mancanza di stupore per il mistero dell'esistenza, per il fatto che non diventiamo uomini nuovi.